in una cena immaginaria con Salvini e Di Maio i quali vogliono due pietanze diverse vorrei sapere dallo chef Rubio quale pietanza per Di Maio e quale per Salvini è un gioco ovviamente, grazie, buonasera da tutti e beh dai queste domande rispondere sempre con un aperitivo di ciputa e poi non so come va a finire però non posso augurarmi poi di intossicare anche se rimaniamo al di sotto delle 0,2 mg per persona rimane solo tossica e non letale di fare una cena con queste due persone quindi non riuscirei a rispondere a un educatissimo ascoltatore io pensavo che gli offrivi delle polpette avvelenate ma hai detto una cicuta rimaniamo sul bio, siamo nell'epoca del biologico ci facciamo una bella cicuta, un frullato di cicuta 0,2 che vanno solo di lenti di corpo ma rimangono vivi